Devo dire che in questi tre progetti noi abbiamo trovato un'armonia di grande funzionalità per la rigenerazione urbana, il che significa spazi pubblici, qualità dell'abitare, ovvero offrire un volto più bello del paese e della cittadina. In questo caso sono tre progetti che sono insistiti su una dimensione comunale a Cascina, aiutando Cascina a darsi sempre più identità, perché Cascina è cresciuta nello sviluppo anche ed espansione della città di Pisa, ma contemporaneamente oggi è per abitanti il secondo centro dopo Pisa, supera i 40.000 abitanti, più di Pontedera, più di Saminiato, che tradizionalmente è Saminiato il capoluogo del Valdarno Inferiore, Pontedera è il capoluogo della Valdera Industriale con grandi prospettive di sviluppo degli anni precedenti. Cascina deve, ora che ha gli abitanti, ora che ha tanti centri non solo di insediamento, ma anche di qualità innovativa, penso a Virgo, penso al Polo Tecnologico di Vecchio, deve trovare una sua identità, questo piano lo aiuterà moltissimo. Dall'altra Sesto e Calenzano, luoghi della Piana Fiorentina che si sono sviluppati, ma in questo progetto è la qualificazione dello storico Palazzo Pretoria di Sesto Fiorentino e il consolidamento di una nuova dimensione urbanistica molto bella che sta assumendo Calenzano, e poi questa grande aggregazione della Garfagnana con 19 comuni di Garfagnana e Mediavalle che dà il senso del superamento e della frammentazione di comuni piccoli in un'unica visione di sviluppo del territorio. Sono tre progetti importanti che vanno nel bando nazionale pinqua, ma è stata un'esperienza così positiva che io fò un plauso a tutti e i 15 comuni o associazioni comuni alla Toscana che hanno presentato progetti e voglio ottenere il finanziamento al di là di pinqua, magari con i fondi europei di sviluppo regionale, perché è stata un'esperienza molto importante, perché ripeto, non si dà realizzazione di opera pubblica o contributi per un'edilizia agevolata, economica e popolare, ma si ha una visione unitaria che si rapporta all'inalzamento della qualità e dell'abitare e della funzionalità dei servizi pubblici in realtà della Toscana diffusa.